Lunedì 2 aprile 2018, 92esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dell'Ariete. Oggi la Chiesa ricorda il lunedì dell'Angelo. L'onomastico. Oggi si festeggiano gli onomastici di Angelo, Angela, Angelino, Angelina, Urbano e Ginevra. Cognomi italiani. Il cognome di oggi è Pozzi. Deriva principalmente dai vari toponimi sparsi in Italia, ma può essere legato anche al mestiere del capostipite di custodia, utilizzo e cura di un pozzo. Oppure ha la presenza di un pozzo nei pressi della sua abitazione. Pozzi è diffuso in tutto il nord e ha il nucleo più importante in Lombardia, mentre la variante Pozzo, più rara, ha ceppi in Piemonte, Liguria e Friuli. Accadde oggi. Il 2 aprile 2005 muore, dopo oltre 26 anni di pontificato, Papa Giovanni Paolo II. Chi è nato oggi? Oggi facciamo gli auguri all'attore irlandese Michael Fassbender, nato a Heidelberg il 2 aprile 1977. La citazione da ricordare. Quelli che chiamate uomini talvolta sono soltanto bambini alti. Geppi cucciari, dice il saggio. Nel monastero altrui non si va con le proprie leggi. Proverbio russo. Un consiglio al giorno. La bella camicia in seta bianca si è ingiallita. Immergetela in acqua e latte tiepido per 30 minuti e lasciatela asciugare senza esporla ai raggi del sole diretti. Procedete poi a lavarla come al solito. Tornerà bianca come nuova.